Narcotizzata, derubata e abbandonata a lungo una strada, è l'odissea di una costituta nigeriana. Era dato un po' il gomito in compagnia di tre giovani coetanei, e così un po' brilla si era lasciata andare ad un gioco erotico con uno di loro, non potendo immaginare che quel rapporto consentiente di via a poco si sarebbe trasformato in uno scopro di gruppo. E' finito in manette per aver stuprato una ragazzina di 16 anni a Campo dei Fiori, nel cuore di Campo dei Romani. No! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione